Siamo con Nello Gambi, difensore della Gioiese. Allora, Nello, un commento a caldo su questa partita vinta con merito, direi, su una buona squadra comunque. Sì, sì, assolutamente. Il San Gaetano non rispecchia la classifica che ha, perché comunque è una squadra buona, il zero punti secondo me non li merita. C'è da dire che noi oggi abbiamo approcciato bene la partita, penso che abbiamo meritato il risultato, non abbiamo rischiato quasi niente, e abbiamo fatto vedere anche un bel gioco, secondo me. Sì, forse più nel secondo tempo che nel primo, ad essere sincero. Il primo tempo sembravate piuttosto contratti, fino al rigore. Sì, perché sai, viene da una sconfitta a Catanzaro e comunque ci sono tante aspettative su di noi. Tanti ragazzi sono arrivati da poco, devono entrare in condizione. Dobbiamo comunque cercare di fare gruppo il più prima possibile, raggiungere una condizione ottimale e giocarci il campionato fino alla fine, perché nelle nostre potenzialità. Ci sono tre o quattro squadre che siamo tutti allo stesso livello e che avrà più continuità, secondo me, alla fine la spunterà. Magari la Gioiese la potrà spuntare contando sul campo del Giordano, di Gioia Tauro? Assolutamente, sì. Giocare qui a Palmi va bene perché è un campo bello, però la Gioiese deve giocare a casa sua. Speriamo che il più possibile il Giordano venga dato come gestione alla società e un conto è giocare qui a Palmi, un conto è giocare a Gioia Tauro con almeno 300-400 tifosi in più, perché sicuramente il campo sarà a pie. Sì, certo. Complimenti ancora, Nello. Grazie mille. Buongiorno. Grazie a tutti.